Fonte Vecchia, Aia, Borgo e Castello. In tanti a Foligno ignorano che la bella frazione di Belfiore è divisa in quattro rioni. Per ricordare a tutti la propria storia, il paese ha messo in mostra la sua tradizione, i suoi mestieri e le sue ricchezze grazie ad una gara di alberi di Natale allestiti rigorosamente con materiali riciclati. Una gara voluta dall'Associazione Culturale Belfiore. Dell'iniziativa ci parla il presidente Luciano Angelini. Abbiamo fatto una gara tra rioni, abbiamo costruito delle strutture in metallo pensando di fare ogni rione cinque alberi a tema. Abbiamo dato delle indicazioni su dei temi inerenti dell'abitato di Belfiore e ognuno si è sbizzarrito un pochino mettendoci più fantasia possibile. Ho vinto io con l'alberello riguardando tutte le vecchie attività che c'erano fino ai primi del Novecento a Belfiore che sono andate perse. Si chiama l'alberello, quello con il berato, ogni dentro il berato c'è un'attività, c'è dal Dali Cartiere a Frantoi, alla Banca, c'erano un sacco di attività che non ci sono più. Quindi Belfiore è morto in qualche maniera. Speriamo. Noi lo stiamo rivitalizzando un attimino, se possibile, con piccole cose. Una frazione dimenticata, quella di Belfiore. I belfioresi pensano ai bei tempi passati in cui il loro paese cambiò di nome, da Fragnano a quello attuale, che come leggenda vuole fu coniato dalla regina Cristina di Svezia. La regina di passaggio per la via lauretana ritenne sgradevole il vecchio nome per un luogo così bello, cambiandolo appunto in Belfiore. Rivendicano i belfioresi che qui fu prodotta la carta per la prima copia a stampa della Divina Commedia, eppure di tante attività artigianali e commerciali floride restano solo memorie in archivi polverosi. Nel paese dove ha ancora sede l'antica banda musicale Fiore all'occhiello di Belfiore, e dove si produce un pregiatissimo olio extravergine di oliva, resta a testimonianza dei vecchi tempi la fonte vecchia, che i cittadini vorrebbero vedere finalmente restaurata, come finalmente sistemati vorrebbero vedere i vicoli del cuore del paese, solo in parte ripavimentati ed inseminati di buche e toppe d'asfalto. Dopo il terremoto che qui ha distrutto non solo le case, ma anche il tessuto sociale ed economico del paese, i belfioresi mettono in mostra con i loro alberi natalizi le straordinarie potenzialità del territorio, augurandosi che questo bel borgo di 800 abitanti possa trovare a breve il riscatto che merita.